tre aggettivi. Istintivamente mi verrebbe da dire imprenditoriale, innovativa, internazionale. Imprenditoriale in quanto appunto fondata da Confindustria e poi proprio per il tipo di approccio che tende ad avere la nostra università, in quanto fin dai primissimi anni di università cerca di stimolare un tipo di atteggiamento appunto imprenditoriale negli studenti, proponendo appunto spesso laboratori e esperienze comunque interattive e quindi anche il metodo di insegnamento tende ad essere non solamente frontale ma anche appunto cerca di favorire l'interscambio, lo scambio di opinioni, di idee e di tramutare le idee in realtà. Infatti proprio una delle tematiche di quella che è stata la riunione più importante del nostro anno accademico, la frase più semplificativa era prima di creare qualcosa bisogna essere in grado di sognarlo, di immaginarlo. Ebbene questo credo che riassuntivamente potrebbe essere il tipo di approccio che si cerca di stimolare e quindi di sviluppare negli stessi studenti. Internazionale perché rispetto ad altre università, forse anche ciò è favorito dalle dimensioni stesse del nostro Ateneo, ti danno la possibilità concreta di fare esperienza all'estero e all'interno dell'università stessa, in particolare parlo per esperienza diretta, in quanto io vengo dalla Liguria, quindi non da Milano, non dalla Lombardia e abito all'interno del campus universitario. Quindi è strutturata anche per questo aspetto seguendo e riprendendo un modello tipico in genere dei paesi anglosassoni e quindi all'interno per i corridoi, insomma nelle cucine stesse, la possibilità spesso di confrontarti con studenti internazionali che poi ritrovi ovviamente a lezione perché non è una scampagnata la loro. Per quanto riguarda invece innovativa, appunto io stessa frequento un corso di doppia laurea a giurisprudenza economia che è stato introdotto proprio qui in Ateneo circa tre anni fa, infatti io sono al terzo anno di sei, era presente al momento per me dell'immatricolazione qui a Milano oppure alternativamente a Roma alla LUIS e io scelsi qui per ragioni logistiche e per la buona opinione che si ha di quest'università. Sono assolutamente contenta, la consiglierei ad altri in quanto dà la possibilità proprio di studiare parallelamente di una stessa situazione due aspetti quello giuridico e quello economico, ormai imprescindibili e strettamente integrati quindi una conoscenza di entrambi gli ambiti diventa imprescindibile e favorirla fin dal corso universitario che si sceglie è molto secondo me pratico e utile. Ebbene per ciò che riguarda il mio futuro sicuramente penso di iniziare con l'esame di Stato perché mi sembrerebbe un buon coronamento insomma del percorso universitario-accademico che intendo, che sono sulla via di sviluppare, che intendo appunto ultimare. Però poi sono anche sincera, ciò dipenderà anche dalle opportunità che si presenteranno. Ho scelto questo percorso di doppia laurea proprio perché oltre ai tradizionali esami di Stato per avvocato, notario piuttosto che magistrato o commercialista perché al termine di questi sei anni attraverso una programmazione appunto particolare che prevede degli esami aggiuntivi, integrativi, di economia fin dal primo anno e un sesto anno solo di economia si può arrivare a conseguire questo doppio titolo. Quindi l'idea, la ragione, la razio per dirla da giurista di questa integrazione è proprio dare la possibilità oltre di fare l'esame di Stato per gli indirizzi che sono direttamente conseguenziali a quelli di giurisprudenza, giurisprudenziali anche per dare la possibilità di fare l'esame di Stato di commercialista. E senza comunque questo un ulteriore profilo professionale che è quello di giurista d'impresa. Però oggi in un'ottica pratica bisogna anche tenere conto che è un profilo professionale che sta dando molte opportunità. Quindi se uno avesse la fortuna e ovviamente a seguito di un bel percorso di carriera sviluppato con interesse, con dedizione, comunque di entrare in una realtà dinamica penso potrebbe essere una soluzione molto interessante.